è il 14 aprile certo siamo pronti con l'almanacco con l'oroscopo ciao da mauro santa lidunia vergine e i compleanni abbiamo lui lord of the string richie blackmore del chitarrista rock inglese è nato il 14 aprile del 1945 una brava attrice prima era anche conduttrice in tv miriam leone 14 aprile 1985 frase di oggi che ci porta direttamente all'oroscopo poni la zucca d'aprile verrà grossa come un barile e adesso buona fortuna a tutte e a tutti ariete alimentate i pensieri positivi e affrontate le cose coscienti della vostra vera forza momento stimolante per i contatti umani forte corrente di simpatia verso una nuova conoscenza con possibili sviluppi a carattere sentimentale toro stimoli positivi per chi affronta un cambiamento giornata favorevole specie nel settore degli affetti gli amici vi cercano e farete anche decisivi passi in avanti in amore i sentimenti infatti oggi si approfondiranno gemelli successi in società inviti e occasioni di svago movimentano la vostra giornata e la vostra nottata selezionate gli interessi in base alle vostre reali esigenze in amore siete contraccambiati emozioni intense da condividere cancro gli astri incoraggiano nuovi rapporti comunicativi una passeggera crisi nei sentimenti può portarvi a maturare una maggiore consapevolezza la tenacia vi premia di sicuro novità per chi cerca l'anima gemella leone giornata propizia per aprirvi ad un dialogo più profondo con la persona amata venere favorisce infatti le unioni e protegge l'armonia per combattere la stanchezza organizzate una breve gita fuori porta vergine il sole promette una buona condizione psicofisica migliora l'affiatamento con i figli aiutate un amico a superare un momento molto difficile il vostro contributo sarà prezioso serata allegra con chi amate bilancia sdrammatizzate in famiglia una piccola delusione alti e bassi nella sfera affettiva cercate di essere più realisti e più lungimiranti prendetevi un po di tempo tutto per voi vi occorrono calma e tranquillità scorpione confidatevi con gli amici però non date troppa corda agli indiscreti in ambito familiare un desiderio tarda a realizzarsi date tempo al tempo smussate gli angoli con il partner rischiate di perderlo sagittario grossa carica di energia e di ottimismo per affrontare questa giornata di festa non lasciatevi prendere in contropiede da chi vuole mettervi i bastoni tra le ruote in amore non cedete all'orgoglio venere vi incoraggia a fare il primo passo capricorno tendenza a idealizzare in amore il momento vi invita a prendere maggiore consapevolezza dei vostri sentimenti marte poi vi invita a non rimanere nell'astratto in campo generale desiderio di evasione un po frenato dai doveri familiari valutate con molta obiettività le scelte da fare acquario nei rapporti di convivenza siate più pazienti grande successo in società il vostro fascino vi attirerà molte conquiste ci sarà anche un favore propiziato da venere fate un po di moto e cercate di trascorrere più tempo all'aria aperta un pesci belle aperture in campo affettivo favorito il dialogo aperto con chi vi circonda affiatamento con gli amici approfittate di qualche momento di pausa per stare un po soli con voi stessi sarete ancora più magnetici dopo grazie a tutti grazie a tutti